sono Dario del Degan dello studio del Degan commercialisti associati presente a Milano dal 1982 per il nostro studio e per i nostri clienti abbiamo scelto il software tiene il conto Zucchetti con il quale le imprese e i professionisti ora anche il regime forfettario possono emettere e ricevere in modo semplice e veloce le fatture elettroniche che noi acquisiamo automaticamente con il nostro gestionale Zucchetti con questo sistema noi e i nostri clienti abbiamo sempre tutto sotto controllo riducendo notevolmente l'operatività e potendo allo stesso tempo offrire supporto per guidare i clienti in questo particolare e importante momento di cambiamento